Tutto è possibile, anche il contrario di tutto. Definizione lapidaria che fotografa perfettamente il momento di Forza Italia. Nel partito che ha candidato Fabio Mantovani, con una cerimonia in grande stile, oggi c'è chi, come se nulla fosse accaduto, come se nulla fosse stato, fa la mossa del gambero e con 1, 2, 3, 10 passi indietro torna al punto di partenza, ricomincia da capo e, sfidando la pazienza degli elettori, rimette tutto in discussione. Si fanno tanti nomi, ma uno su tutti, Elena Donazzan. Così, mentre l'ignorato Fabio Mantovani sceglie il silenzio e resta nell'ombra, le luci della ribalta illuminano l'assessore regionale che si prende il palcoscenico politico, diventa regista di proposte indecente e lancia le primarie di primavera. Proprio così, le primarie, marchio di fabbrica del centro-sinistra che, per organizzarle come Dio comanda... Per organizzare le primarie, due mesi, un lavoro mostruoso che non so se li farei, 10 persone che hanno investito tantissimo tempo, che ringrazio, 100 volontari il 3 dicembre che hanno lavorato molto, che ringrazio. Capito? Il centro-sinistra ha impiegato 60 giorni intensissimi per organizzare le primarie, ma il centro-destra oggi non ha tutto questo tempo. Le elezioni sono tra poco più di due mesi. Per la coalizione sarebbe una guerra civile, un confronto tra Alfieri di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e liste civiche che, invece di sfidare il centro-sinistra, utilizzerebbero le ultime settimane per battagliare tra loro fino al giorno in cui i vicentini andranno alle urne. Insomma, oggi come oggi, Forza Italia potrebbe organizzare al massimo delle primariette, un bigname delle primarie. E che credibilità potrebbe avere questa operazione davanti agli elettori? Oltretutto, Fabio Mantovani verrebbe degradato da candidato sindaco a semplice primarista e a quel punto, forse, gli converrebbe andarsene sbattendo la porta. Insomma, questa proposta di Elena Donazzan, invece di chiarire, confonde. Forza Italia ormai deve dare risposte. Facciamo le primarie? Invece è una domanda, l'ennesimo punto interrogativo. E se chiedere l'impossibile fosse una strategia per evitare di candidarsi? Se quella di Elena Donazzan fosse la mossa dell'anguilla?